Rachele Piras, Assessore al Turismo, oggi la presentazione del programma della 119esima Festa del Redentore, una festa che unisce sia l'aspetto laico con la sfilata dei costumi tradizionali, ma anche quello religioso con la messa e la processione votiva nell'anello dell'orto bene. Prima di tutto sacralità, prima di tutto momento religioso, raccoglimento, questo è il Redentore. Attorno alla festività religiosa, anticipata nel calendario, ci saranno le sfilate tradizionali, dei costumi, delle maschere, ci sarà il palio dei cavalli, danze, musiche, concerti, nell'insegna sia della tradizione che anche della modernità, concerti jazz, concerti di musica leggera, Festival Memorial, dove andremo a ricordare, come già detto in conferenza stampa, andremo a ricordare i ragazzi giovani che abbiamo perduto per incidente o per malattia, Roberto Dore e Robertino Dore e i fratelli Pintor, momenti di particolare raccoglimento, e un invito al divertimento, alla gioia e alla partecipazione.